ACRI e CIF hanno dato vita ad una collaborazione che ha rafforzato i servizi del centro di consulenza familiare e genitoriale. Cartina torna sole delle priorità a livello di tenuta sociale. Bullismo e cyberbullismo purtroppo sono realtà evidenti anche ad Arezzo. La giornata ci offre l'occasione anche per presentare questa collaborazione tra il CIF e le ACRI nel contesto cittadino per dare proprio un punto di riferimento importante. Il CIF infatti al proprio interno ha un centro di consulenza familiare che ormai è operante da oltre 25 anni e le tematiche sono varie, tematiche ovviamente familiari, genitoriali, ma negli ultimi tempi purtroppo sempre più spesso i disagi che sono stati portati all'ascolto delle nostre consulenti spesso si rivolgono a atti di bullismo e di cyberbullismo. Ci sarà anche una testimonia al chi racconterà una storia di vita vera? L'evento si aprirà con la testimonianza di una giovane ragazza di 21 anni, Flavia Rizza, che da vittima di bullismo è diventata una testimonial della lotta contro il bullismo. Oltre alla testimonianza diretta, uno spettacolo teatrale come mezzo per arrivare agli adolescenti. Siamo molto contenti di partecipare a questo evento appunto al Teatro Mecenate che oltre alla questione sociale importantissima, soprattutto penso ai giovani, del bullismo e del cyberbullismo, come dire, si unirà al teatro con la compagnia Nata Teatro con uno spettacolo dal titolo Cosa saremo poi? Una semplice storia di bullismo. Ecco con la regia di Alessandra Ricò, attori Mirko Sassoli e Cinzia Corazzesi.